Buonasera, buonasera a tutti, allora vi do comunicazione dei dati che noi abbiamo registrato. Il totale delle persone contagiate sono 152 allo Stato di cui 3 deceduti, come sapete c'è stata una persona che era in terapia intensiva che è morta nell'ospedale di Crema qualche minuto fa. Il numero per Regione è questo, Lombardia 110, il Veneto 21, Emilia Romagna 9, 2 Lazio e il dato complessivo sono 55 ricoverati con sintomi, terapia intensiva 25, in isolamento domiciliare 19, in verifica 27. Questi sono i dati, grazie. Correggo, la vittima è a Cremona, scusate. Io ho questi dati, vi ripeto i dati che io ho, quindi sono i dati del coordinamento e i dati che abbiamo noi, 152 complessivamente, scusate, 152 complessivi, di cui 3 deceduti, la vittima di Cremona, che si aggiunge alle due vittime che avevamo già nei giorni scorsi, il guarito che conosciamo, e poi la distribuzione sono 110 Lombardia, 21 Veneto, 9 Emilia Romagna, e quindi per un totale di 149, ricoverati 55, terapia intensiva 25, isolamento domiciliare 19, in verifica 27. Ok, grazie. Grazie.